La guardia costiera è stata allertata a seguito di segnalazioni da parte di alcuni bagnanti costretti ad uscire immediatamente dall'acqua quando hanno avvistato una sospettosa chiazza rossa. Alcuni bagnanti hanno lamentato anche un fastidioso prurito. I bagnanti hanno avvistato e fotografato quello che descrivono come chiazze rosso sangue, il fatto si è verificato nella spiaggia di Maddalusa, litorale di Agrigento. Segnalazioni analoghe sono arrivate da varie spiagge di San Leone. Il comandante della capiteria di Porto Empedocle svela l'arcano. Sono banchi di piccole meduse, si tratta di un fenomeno naturale spiega il comandante Filippo Maria Parisi. In ogni caso è consigliata la massima prudenza perché al contatto possono risultare altamente urticanti.